Oggi in tutta Italia il simbolico spegnimento delle luci nei monumenti e siti di interesse culturale contro i cambiamenti climatici che stanno minacciando la vita sul pianeta Terra. A questo appuntamento hanno dato il loro contributo 51 comuni molisani. Il cambiamento del clima viene percepito dalla popolazione come uno dei più gravi problemi ambientali al pari dell'inquinamento dell'aria e delle acque. Gli italiani sono sempre più disponibili a cambiare le proprie abitudini per favorire la riduzione dei gas serra. La disponibilità a modificare i propri stili di vita e di consumo risulta maggiore tra le fasce maggiormente scolarizzate. Questo risultato è molto incoraggiante perché mostra la tendenza dei cittadini a fare la propria parte per contribuire alla soluzione del problema. Il Molise riconferma l'altissimo interesse per questa manifestazione in tema di salvaguardia dell'ambiente. La partecipazione a Her Tower è spontanea e una dichiarazione di interesse ed attivismo che parte dai cittadini. Una richiesta di più attente politiche per un benessere diffuso e uno sviluppo sostenibile.